Nicola Molteni, è stata pubblicata la lista di 60 terroristi islamici italiani e tra questi ci sono tre comaschi. Lei come commenta? È un fatto grave, c'è un pericolo gravissimo per il territorio comasco. Se questi fatti fossero confermati, noi abbiamo tre potenziali terroristi che hanno gravitato sul territorio comasco. C'è un rischio per la sicurezza dei comaschi e del territorio comasco, del motivo per cui abbiamo immediatamente chiesto al Ministro Alfano misure immediate, più controlli, più controlli alle frontiere, più forze dell'ordine, controlli immediati sulle moschee, ad esempio quella di Como, la non apertura della futura moschea di Cantù, il blocco di Schengen, il contrasto all'immigrazione clandestina e più forze dell'ordine sul territorio comasco. Oggi il territorio comasco rischia di essere potenzialmente in pericolo, serve una risposta chiara, forte e immediata da parte del Governo.